Nonno Livo vi aspetta tutti al villaggio per festeggiare battesimi, comunioni, cresime, lauree e diciottesimo compleanno a soli 19 euro! Nonno Livo vi fa festeggiare il nostro compleanno con soli 12 euro a persona, piscina o campetto di calcio, pizza, bevanda e animazione a volontà! Tutte le domeniche di aprile e maggio con soli 10 euro, ricco pranzo e tanto divertimento! Grazie a tutti!